Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando, saranno tre volte Natale e l'impesta tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno il ritorno. e ci sarà da mangiare e luce tutto da noi, anche i muti potranno parlare mentre i soldi già lo fanno. e ci sarà da mangiare e si farà l'amore ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età, e senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse troppo furbi e cretini di ogni età. Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico cosa si deve inventare, per poter ridere ci sono, per continuare a sperare, e se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante, che in questo istante ci senti io. L'anno che sta arrivando da un anno passerà, io mi sto preparando e questa è la novità. e questa è la novità. alla prossima qui 呀 Grazie a tutti